Puntava a diventare capitale della cultura, poi ha ripiegato, si fa per dire, su capitale del jazz e della ricerca, ma per un giorno l'Aquila sarà anche capitale delle scie chimiche. No, non è uno scherzo. La trasformazione sarà ufficiale all'Aquila tra circa un mese e mezzo, il 19 novembre, presso l'auditorium del parco, dove dalle 9 alle ore 18, organizzato dall'associazione Riprendiamoci il Pianeta, Movimento di Resistenza Umana e Alternativa Riformista Umbria, si terrà al convegno chemitrails, scie chimiche, geoingegneria e manipolazione climatica e ambientale, organizzato specifico negli organizzatori su invito e con il patrocinio del Consiglio Comunale dell'Aquila. Il convegno infatti segue la clamorosa iniziativa legislativa del Consiglio Comunale del Capoluogo che, lo scorso 25 febbraio, sotto i riflettori dei media nazionali, ha approvato un ordine del giorno che vedeva come primo firmatario il consigliere comunale e vicepresidente dell'Assise Ermanno Giorgi e sottoscritto anche da altri consiglieri comunali con il quale si impegnano il Consiglio, il Sindaco e l'Amministrazione a farsi promotori presso il Governo affinché si chiarisca la situazione, quella delle scie chimiche appunto. E ora il convegno. Per la prima volta, dopo oltre dieci anni di irrorazioni quotidiane su tutto il territorio nazionale, un Consiglio Comunale coglie il problema e decide di ascoltare la voce delle associazioni e dei libri ricercatori che studiano il fenomeno e lo documentano continuamente sul web, si legge nella nota, proprio in riferimento a quell'iniziativa. Parleremo quindi di scie chimiche, di industria bellica, di studi, documentazioni e brevetti relativi a una tecnologia altamente distruttiva in grado di scatenare tutti quei disastri ambientali che subiamo e che si sono misteriosamente moltiplicati dall'inizio del nuovo millennio. Secondo i promotori del convegno, sembra che la gente non sappia o non voglia sapere. Noi siamo convinti che siano soprattutto le istituzioni che vogliono ignorare il problema e che ci invitano a disinteressarcene. È il momento di dare testimonianza del senso di responsabilità popolare che non può ignorare l'evidenza, non può e non vuole far tacere la propria coscienza, scrivono ancora. Invitiamo tutti i liberi cittadini e gruppi costituiti che hanno studiato, visto e capito la pericolosità di queste attività, a pronunciare la propria adesione e sostenerci. Renderemo pubbliche le vostre adesioni affinché le istituzioni capiscano che il popolo è vivo, è attento alla vita e non sostiene la distruzione del pianeta e della civiltà umana, concludono gli organizzatori. In democrazia ognuno è libero di pensare ciò che vuole e sostenere qualsiasi idea, anche se la più bizzarra, ma l'iniziativa delle scie chimiche stride e parecchio nella città che qualche giorno fa ha celebrato la Notte Europea dei Ricercatori.